E questa mattina è stata trasmessa in diretta su Reteotto la Santa Messa per la solennità del Volto Santo e la celebrazione dei 400 anni di presenza dei frati Cappuccini a Manopello, messa che è stata presieduta da Sua Eccellenza Domenico Angelo Scotti, vescovo emerito di Trivento, annullata invece la tradizionale processione al fine di garantire il contenimento della diffusione del Covid-19. I festeggiamenti in onore del Volto Santo quest'anno sono anche l'occasione per ripercorrere la storia lunga quattro secoli della presenza dei frati Cappuccini a Manopello. La festa terminerà con la messa alle ore 19 presieduta dal ministro provinciale dei Cappuccini Matteo Siro, seguita dalla benedizione della città con la reliquia del Volto Santo. La festa rappresenta un'occasione di speranza per noi, per la popolazione di Manopello e per tutti coloro che frequentano questo santuario, ha spiegato il rettore padre Antonio Gentili. La celebrazione del Volto Santo sarà anche l'occasione quest'anno per ricordare la secolare presenza dei frati Cappuccini a Manopello, ha detto invece il sindaco Giorgio De Luca. 400 anni di storia dell'antico ordine religioso che ha custodito la reliquia del Volto Santo di Gesù portata in città nel 1506 da uno sconosciuto pellegrino.